Sì, adesso subito dopo la tappa non mi viene da pensare alla maglia rossa, ma mi viene da pensare al risultato di oggi, che comunque è un altro podio, però con queste gambe forse potevo chiedere qualcosina in più. Greipel comunque si è dimostrato ancora una volta il più forte, quindi ci riproveremo nei prossimi giorni. Credo che sia un discorso di programma di corse, se hanno in mente di fare anche il Tour de France diventa difficile fare due grandi giri ad alto livello, però ti ripeto dovresti chiedere a loro. Maglia rossa è obiettivo anche? Sì, sicuramente la maglia rossa è importante per noi, continueremo a inseguirla e continueremo a inseguire una tappa.